Ciao, sono Francesco Viganò, uno dei dieci vincitori del premio Conscienze 2020 per la laurea magistrale. In questo momento vivo a Londra, dove mi trovo per il mio PhD. Per il mio progetto di tesi magistrale, sotto la supervisione del professor François Charles, ho lavorato un recente articolo del professor Daniel Oibrex dell'Università di Bonn. In questo lavoro il professor Oibrex studia alcune proprietà di una famiglia, detta Twister Space, di alcune interessanti superfici, dette K3, che investono un ruolo fondamentale all'interno della geometria algebrica. Il mio lavoro è stato semplicemente quello di contribuire a questa investigazione, dimostrando ulteriori proprietà di questa famiglia. Mi ricordo in particolare di una notte in cui, appunto, intorno a mezzanotte, mi è venuta un'idea e ho passato le successive ore a svilupparla. La mattina, verso le nove, ho scritto al mio relatore, ehi, ci possiamo sentire, ci siamo chiamati e solo dopo mi sono messo a dormire. Ogni tanto capitano queste cose si prendono come vengono. La mia tesi magistrale, come tutta la mia laurea magistrale, si colloca all'interno del programma ALGANT, un acronimo per Algebra, Geometry and Number Theory. Questo programma mi ha permesso di studiare in due differenti università, l'Università degli Studi in Milano e l'Université Paris-Saclé a Parigi. ALGANT ha rivestito un ruolo fondamentale nella mia carriera accademica e un'esperienza fantastica e alcune delle conoscenze che ho sviluppato all'interno di questi due anni si sono rivelate amicizie importanti per la mia vita.